Che so, l'anziano o i bambini, eccetera, possono raggiungere questo posto? Allora, non è solamente un problema di raggiungere un luogo, ma è anche un problema relativo anche ad altri aspetti. Ad altri aspetti legati ai non vedenti o agli ipovedenti, ai sordi, ma non solo. Quando si parla di accessibilità, si parla anche di accessibilità to-cour a 360 gradi. Abbiamo anche scoperto ieri, grazie a Dino Angelaccio dell'Università di Siena, il senso più ampio di questo termine. Oggi, per farla breve, così non ci dilunghiamo perché poi approfondiremo ancora questo campo, abbiamo con noi Marcella Mattavelli, dell'Orto Botanico di Brera, che si occupa da diversi anni di accessibilità. E quindi con lei, ieri abbiamo puntato più l'attenzione sull'accessibilità di una riserva naturale, quindi poi il pomeriggio abbiamo fatto il sopralluogo a Torre di Castiglione. Quindi abbiamo provato anche con Dario Scarpati, della ICOM, abbiamo provato proprio sul campo a sperimentare l'accessibilità lì, in quel luogo naturale, con rilevanze sia naturalistiche che storico-architettoniche, storico-archeologiche. Invece con Marcella oggi ci adentreremo, magari per quanto riguarda più l'aspetto degli orti botanici, ma non solo, quindi ora si presenterà lei e quindi ci dirà quello di cui ci parlerà oggi. Poi avremo un momento anche di condivisione, di briefing su quello che abbiamo fatto ieri, sempre con Dino Angelaccio e con Marcella anche, quindi cercheremo di tirare un po' le somme. Nel pomeriggio andremo al giardino botanico Lama degli Olivi a Monopoli, dove appunto proveremo a interfacciarci direttamente con altre problematiche, altre realtà. Bene, allora io lascio la parola a Marcella e quindi buon lavoro a tutti. Grazie innanzitutto di avermi invitata, è stata veramente una felicissima scoperta, tra l'altro per me, questo paese, questo conversano che non conoscevo ed è veramente meraviglioso. Quindi complimenti anche per come lo tenete, perché è veramente un gioiellino. Lo dirò ai milanesi di tenere meglio la città. Bene, appunto io sono Marcella Mattavelli, funziona? Sì, funziona? Perfetto. Sono appunto il conservatore, o la conservatrice, ma non mi piace usare questo termine perché sa un po' di marmellata, quindi sa una cosa un po' casalinga. Appunto sono il conservatore del Museo Astronomico e dell'Orto Botanico di Brera. Allora inizialmente, come vedete dal titolo, appunto vi presenterò nel corso della presentazione appunto quello che abbiamo realizzato all'Orto Botanico, che è praticamente un primo assaggio di quello che vorremmo realizzare anche al Museo Astronomico. Mi sembrava però opportuno... Salvataggio. presentarvi il luogo nel quale ci troviamo. Quindi presentarvi innanzitutto Palazzo Brera, perché questo è, diciamo, importante anche per quello che poi andremo a dire appunto riguardo il percorso non vedenti. Vi anticipo già anche il perché. Innanzitutto perché Palazzo Brera è un palazzo che è un unicum a livello mondiale, proprio per come si configura fin dal Settecento e poi perché, così nelle nostre intenzioni, è quello di estendere a tutto il palazzo, appunto, anche in vista del famoso Expo 2015, proprio l'accessibilità, diciamo, sotto i diversi aspetti appunto delle non abilità, appunto delle disabilità, quindi non soltanto visive, anche motori, eccetera, eccetera. È un palazzo storico, quindi con tutti i problemi del caso, anche per noi, cosiddetto enormi dotati, che per fare appunto ogni volta al mattino, quando arrivi e che non è ancora bevuto il caffè, quelle rampe di scale appunto storiche, veramente è una bella fatica, anche quando sei in gravidanza, eccetera, eccetera. Questo lo dico semplicemente proprio per riallacciarci al scambio di idee che abbiamo avuto prima. Spesso quando si guarda appunto alla persona, cioè a trovare il modo per superare appunto le barriere architettoniche, pensiamo che siano fatte soltanto appunto per i nostri, come dire, concittadini disabili, ma in realtà questa cosa va poi a pro di tutti noi. Quindi i soldi pubblici destinati per queste cose sono cose che poi vanno a pro anche nostro. Vi ricordate gli inviti sui marciapiedi, no? Quando ci fu questa legge per fare gli inviti che è in marciapiedi, dicono, eh insomma ci fuono un po' di lamentele perché dicevano perché per una, solo una o due persone devono essere messe queste cose. Invece guardate, non è solo per questo che già è segno di civiltà, ma poi per tutti le persone con le carrozzine, gli anziani che non possono fare il pasto, noi che vendiamo sulle, appunto questo magari lo mettiamo tra parentesi, con le biciclette, c'è, quindi è una cosa che va appunto a beneficio veramente di tutti. Quindi l'idea proprio anche in vista soprattutto dell'Expo, di rendere accessibile il palazzo e vi dico, anche Milano ha buttato un occhio verso il nostro percorso per poter, con l'intenzione soprattutto grazie a coloro che ci hanno finanziato, poi dirò chi, di cercare appunto di far raggiungere dalle metropolitane fino a noi, le persone, quindi tutte, che arriveranno in Milano in particolare poi per questo centro che è appunto un po' il centro nevralgico della città, nella maniera appunto più semplice possibile. Questo è un progetto che si ha perlomeno l'intenzione di estendere quantomeno al nostro appunto quadrilatero, che è vicino in effetti al quadrilatero della moda, quindi ho usato anche correttamente il termine. Quindi Palazzo Brera, quindi si trova appena nel centro di Milano, quindi è allora per le fashioniste, vicino a Monte Napoleone, il mio di Rimpettaio è Armani, quindi insomma, bel posto. Poi abbiamo da una parte ferrè, eccetera, eccetera, quindi tutti i grandi marchi sono lì. Siamo a poca distanza dalla scala, sono dieci minuti a piedi della scala, questo per darvi un po' un'idea di dove è collocato proprio il palazzo. Palazzo Brera è spesso conosciuto per la famosa appunto Pinacoteca e per l'Accademia di Belle Arti e anche per la Biblioteca Nazionale Braidense. Pochi sanno però, e questo lo fa appunto unico nel suo genere, che anche centro di grandi istituti scientifici. L'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, che è un istituto che risale appunto al primo nucleo del Settecento, ma poi si sviluppa soprattutto con Napoleone, diciamo viene in qualche modo rifondato con Napoleone, per la promozione appunto delle scienze e delle lettere, come dice appunto il nome. Lì per esempio è conservato l'archivio Volta. L'Osservatorio Astronomico, che tra l'altro è proprio il più antico istituto scientifico della città di Milano e ha in certo senso anche il più antico proprio lì dentro. E poi ci siamo noi, che siamo l'Università degli Studi di Milano, come da logo, perché spesso veniamo confusi appunto con l'Osservatorio, che è praticamente la nostra vicina di casa, insomma l'istituzione è la nostra vicina di casa, però è un'altra istituzione, un altro campanello, con l'Orto Botanico e il Museo Astronomico. No, dunque, aspetta, ok. Allora, questo è il Museo Astronomico, vedete la foto, appunto il Museo Astronomico e così uno spaccato sull'Orto Botanico. Cosa ha fatto l'Università degli Studi? Che cos'è in particolare proprio il Museo Astronomico Orto Botanico di Brera? Che è veramente un nome lunghissimo, ma che ha voluto proprio testimoniare l'azione proprio dell'Università degli Studi di Milano all'interno proprio di Palazzo Brera. Perché tutto il patrimonio storico scientifico e anche naturalistico, anche l'Orto Botanico, stava andando completamente disperso. Nell'Orto Botanico volevano fare delle bellissime costruzioni, poi vedrete, adesso sono solo 5.000 metri quadri appunto di territori, poi vedrete un'immagine, una stampa del Settecento che vi dà l'idea di quanto appunto si sia costruito lì sopra. Quindi vi dico proprio nel centro di Milano, questa piccola oasi storica, perché il nucleo dell'Orto Botanico risale al 1200, quindi era importante proprio conservare proprio questa testimonianza. E il mio prof, che poi appunto è il direttore del Museo Astronomico dell'Orto Botanico di Brera, questo lo dico ahimè ai tanti precari che ci sono ovunque in Italia e nel mondo, perché ormai è una cosa generalizzata, però per dirvi appunto che anche una volta appunto si era precari, però lui ebbe il coraggio da precario, perché non era ancora ricercatore confermato, proprio di diffidare, pensate, il rettore dal dare adito ad un progetto di un grande architetto che voleva proprio costruire diciamo un immenso, un grande appunto edificio proprio nella zona dell'Orto Botanico. Lui appunto in questa condizione si oppose e questa cosa non me la disse, lui me la disse il rettore, Mantegazza. Mi disse, ma sa cosa aveva combinato il suo prof? Ho detto, no, no, me lo dica perché può sempre servire, gli ho detto, sa com'è. E mi dice, no, ma ti ricordi? Gli dice lui, eh ma sì sì, ma cosa è successo? Dico, mi dica questo punto. E proprio mi disse, mi diffidò allora da portare avanti questo progetto e fa, ma il bello che era precario e non era ancora ricercatore confermato. Questo perché ve lo dico? Perché dietro a queste storie, dietro alla salvaguardia proprio del nostro patrimonio, del nostro patrimonio culturale, spesso non ci sono appunto le persone, non so, le grandi istituzioni, le grandi lobby, le grandi cose che uno dice, vai armato, di tutti questi belli appoggi, vado, difendo, faccio. Spesso appunto, come nel caso appunto dell'Orto Botanico di Brera, è una lotta a volte proprio personale, però quando c'è una grande sostanza dietro, e trovi anche delle grandi intelligenze, perché appunto in questo caso il rettore Montegazza colse appunto il problema e ritornò appunto sui suoi passi. Anche il Museo Astronomico è il frutto proprio di questa azione che, in questo caso il mio prof con appunto la sezione storia della fisica, portò avanti per salvaguardare tutto questo patrimonio storico scientifico di Palazzo Brera, che rischiava veramente di andare disperso. Quindi sia il patrimonio strumentale che vedete qui, sia il patrimonio bibliografico, sia patrimonio appunto archivistico. Per bibliografico vi do semplicemente un accenno, erano praticamente buttate nelle bottole a marcire, oppure nei sacchi della patumiera, libri come il Siderius Nuncius, coevo proprio all'epoca, è un libro praticamente di Galileo del Seicento. Oppure appunto i documenti di archivio che furono veramente importanti perché davano, come dire, luce a tutta la corrispondenza che ci fu tra l'osservatorio e le altre istituzioni scientifiche appunto dell'epoca e nel corso dei secoli. Non solo, ma allora che siamo negli anni Ottanta, quindi avete presente internet, era ancora una cosa lontana, lì luce, però siccome sono le università, giravano già i paper di questi esperimenti che si stavano facendo al CERN e soprattutto dell'utilizzo di questo sistema che metteva in rete due computer o tre computer per poter verificare in simultanea, in poche parole, i risultati di una, o meglio, l'esperimento stesso. E lì all'istituto nostro, appunto questo me l'ha detto prof, che non dico il nome perché sennò poi mi uccide e mi licenza, no comunque appunto è il professor Tucci e il suo gruppo appunto di ricerca, fece il, cioè organizzò tutto questo lavoro per renderlo accessibile, quindi tutto questo lavoro di catalogazione, inventariazione, restauro, per renderlo accessibile in remoto. Quindi siamo stati proprio il primo istituto ad avere tutto il proprio patrimonio in rete e poterlo utilizzare con un'interfaccia amichevole, questo già praticamente all'inizio degli anni 90, voi sapete che la posta elettronica comincia a circolare in università nel 94 più o meno, poi si espande appunto. Quindi vedete un po' come siamo stati pionieristi che adesso non per dire che siamo stati più bravi, anche perché allora io non c'ero, ma semplicemente per dire cosa nasce appunto in università, com'è bello appunto poter rendere accessibile, appunto uso questo termine che riguarda appunto noi tutti che siamo qui oggi a questa cosa, quindi non soltanto hai le persone appunto con altre abilità, ma anche la possibilità di noi stessi di poter godere di questo patrimonio. Allora, queste sono altre cose, qui vedete sulla vostra sinistra com'era prima questa famosa, questa cupra schiaparelli, dopo il nostro restauro e anche il telescopio MERS che era praticamente stato vivisezionato e disperso in tutte le istituzioni della città, come venne appunto restaurato qui non con l'idea di vabbè ok tiriamo a lustro un pezzo storico e lo mettiamo lì così per fare bella mostra. L'intento è stato proprio quello di recuperare tutto il patrimonio praticamente storico scientifico proprio per farne una fonte della storia della scienza esattamente come un quadro, un'opera, costituisce una fonte per la storia dell'arte. Questo è stato proprio l'intento. Questo telescopio tra l'altro lo utilizziamo ancora per delle osservazioni fatte chiaramente in maniera amatoriale perché già dall'Ottocento, da Milano non si poteva, cioè alla fine dell'Ottocento, questo è un telescopio del 1865, già diciamo verso la fine appunto dell'Ottocento non era possibile osservare perché c'era l'inquinamento luminoso. Quindi tanto per dirvi che com'è tutto relativo anche a livello proprio di storico è la possibilità di utilizzo di questa strumentazione. È un telescopio importante, adesso ve lo dico proprio come accenno, proprio per una condivisione culturale, perché con questo telescopio e da questa cupola Giovanni Virgilio Schiapparelli effettuò le sue osservazioni su Marte. Marte era già stato osservato. Però lui cosa fece? Le osservò talmente precisamente da poterne disegnare una mappa precisa, fece proprio la cartografia della mappa di Marte. Quindi ancora adesso quando sentite al telegiornale, magari in occasione di qualche missione su Marte, nomi appunto tecnici che riguardano il pianeta, sapete che sono stati dati da questo luogo e con questo telescopio. Da qui nasce anche la legenda dei marziani, perché appunto dall'osservazione di Marte a lui sembrò, poi in realtà si rivelò appunto un'illusione ottica, quindi vi disvelo già il mestiere in modo tale che scientificamente siamo a posto, però gli sembrò che ci fossero praticamente dei canali, cioè lui vedeva delle driglie dritte e poi vedeva che questi canali praticamente gli sembrava venissero addirittura duplicati, no? Quindi si duplicassero, oppure fossero modificati e quindi lui a livello scientifico, quindi con la sua comunità scientifica, dice io vedo questo punto. Però diciamo che la cosa aveva talmente tanta, come dire, risonanza che uscì dall'ambiente puramente scientifico, un po' come quello che è successo qualche tempo fa col CERN, no? Che ci siamo trovati un tunnel nel senso neanche saperlo, cioè il primo tunnel costruito. Ecco, diciamo che l'importanza fu un po' quella, no? Cioè colpì talmente l'immaginazione che uscì dal puro ambito scientifico e quindi colpì anche le, come dire così, le menti fervide degli scrittori che insomma iniziano a pensare, insomma, se su Marte c'è qualcuno, ci sono dei canali, perché questi canali si moltiplicano, poi si riducono, poi vengono modificati e ci sarà pur qualcuno che li progetta, li costruisce, quindi ci sono degli esseri intelligenti e anche dei manovali ovviamente e quindi ci saranno i marziani appunto, no? Quindi nasce lì proprio in questo luogo, o meglio, da lì nasce appunto la, diciamo, quell'elemento che poi ha creato appunto questo genere letterario proprio della fantascienza. Quindi vedete che è proprio un bel luogo e anche un bel luogo proprio da comunicare. Dico la verità che essendo appunto in cima appunto i tetti di Brera, quindi sono praticamente 30 passametri, essendo poi i luoghi per raggiungerli veramente poco, molto stretti, oltre che molto faticosi da raggiungere, è veramente un percorso poco accessibile. Qui siamo sui tetti ancora qui di Brera, dove nasce un'altra importante disciplina scientifica. Vedete lì appunto delle strumentazioni sulla torre, che è la torre del campanile praticamente dell'ex chiesa di Brera, perché lì in Palazzo Brera c'era una chiesa. Perché qui nasce la disciplina della misura della qualità dell'aria, sempre ad opera appunto dell'università degli studi, in particolare della sezione proprio di, della misura della qualità dell'ambiente in sostanza. Quindi se si è cominciato a parlare, o meglio se adesso un mezzogiorno sì, al telegiornale e altro pure, sentiamo parlare di PM10, non so se qui interessa la cosa del PM10, perché noi Milano praticamente è una cosa che ci va via come il pane, si dice, no? Perché ovviamente da questo dipende per esempio la chiusura del centro urbano, eccetera, eccetera. Non so se qui avete problemi, suppongo di no, di inquinamento, però da noi è un problema effettivamente importante e quindi sapere praticamente proprio che cosa si respira, vabbè, spesso chiaramente sarebbe meglio non sapere, però appunto sapere cosa, com'è, diciamo, qual è veramente la qualità dell'aria, a lungo andare ci ha portato anche appunto ai protocolli di Chiotto, eh, voglio dire, non è una cosa che poi riguarda il solo Milano, però ha avuto origine proprio in questo luogo. Ora, a parte appunto presentarvi un po', diciamo quanto siamo stati bravi, tra virgolette, no, a parte appunto presentarvi un po' cosa succede anche a livello scientifico per la Sobrera, questo serve per dirvi che tutte queste cose vorremmo appunto inserirle in un percorso che vi dicevamo prima, quindi un percorso che non fosse accessibile come formazione soltanto appunto alle persone normodotate, ma appunto anche a quelli appunto con disabilità. Allora, l'orto botanico di Brera. Allora, l'orto botanico di Brera qui lo vedete nel Settecento, eh, e vedete quello che vi dicevo prima, vedete già da qui, da qua sto spaccato com'era grande. Ora, di tutto quello non c'è più niente, praticamente no, c'è tutta questa parte che si sviluppa qui avanti, chiaramente con un'altra conformazione. Nasce, dicevo, dal primo docento come giardino dei semplici, sapete appunto io l'ho scoperto tutto sommato di recente, io premesso non ho una formazione botanica, quindi sono peraltro giustificata in questo senso. No, appunto, giardino dei semplici non perché erano persone appunto alla mano, ma perché coltivavano le erbe semplici, che erano le medicinali, le erbe medicinali, che servivano proprio per fare i composti. Composti per, che adesso chiameremo per esempio tisane, no, quindi andravano, e lì all'interno del palazzo c'era proprio una spezzeria e soprattutto lì proprio intorno al palazzo si svilupparono poi le prime farmacie. Cioè abbiamo un'antica farmacia di Brera e poi abbiamo il primo nucleo della farmacia, diciamo la prima proprio farmacia di Carlo Erba che nasce proprio lì, fa nascere proprio lì la sua fortuna perché praticamente crea le pastiche, cioè una volta andavano, c'ho mal di testa, andavano nello speziere e questo gli dava il composto in poche parole per farsi passare mal di testa. Carlo Erba invece ha questa grande intuizione, cioè di rendere il composto già disponibile in compresse e lo fa utilizzando appunto la macchina a vapore perché poi le prime macchine va a vapore disponibile appunto lì nella zona in particolare a Milano perché sapete che poi da lì nasce la grande rivoluzione industriale appunto che riguarda appunto l'Italia. A Milano per esempio abbiamo la prima centrale elettrica, termoelettrica dell'Europa, dell'Europa continentale che era seconda soltanto a New York, pensate che ed era praticamente proprio attaccata al Duomo, cioè erano pochissimi metri dal Duomo. Se andate a Milano qualche volta, se venite a trovarci, se vedete, andate al Duomo, vedete, cercate dove c'è il cinema Odeon che praticamente è davanti alla Rinascente e proprio lì al cinema Odeon, all'interno del cinema Odeon c'era questa centrale termoelettrica. Quindi 52 metri, eh? La Edison. Fu Edison, esatto. Meglio fu Colombo che prese appunto questa, montò appunto diciamo la Dinamo che conobbe ad una fiera, un po' che però è un expo che ci fu a Parigi nel 1881 e in particolare vide proprio queste lampadine di Edison che colpirono molto la sua illuminazione, sì, la sua immaginazione, le importò e le prime applicazioni vengono fatte proprio lì di queste lampadine elettriche, di queste lampadine di Edison che sono quelle con l'incandescenza che sono quelle che abbiamo utilizzato fino all'altro ieri in casa nostra, in sostanza. La prima ad essere illuminata furono alcuni barli della zona e la prima ad essere diciamo il primo istituto, la prima istituzione, meglio, ad essere completamente illuminata fu la Scala. Questo nel 1882, poi 83 e i polmoni, chiaramente per parlare appunto della salubrità dell'aria, ringraziarono tantissimo perché prima andavano chiaramente le persone assistevano alle spettacoli che erano illuminate dalle candele, quindi ovviamente sapete che la combustione, come dire, mangia appunto l'ossigeno e crea tutti questi prodotti che non sono sicuramente salubri e quindi appunto le persone ne uscivano veramente affumicate. Scusatemi, il termine è poco scientifico ma rende veramente l'idea. Ecco, allora vi dicevo, entrando nel vivo dell'orto botanico, quindi nasceva appunto nel 1200, si sviluppa poi anche con i gesuiti proprio come, diciamo, giardino loro e giardino appunto dei semplici, diciamo la creazione proprio di un vero e proprio orto botanico inizia nel 1774 grazie a Maria Teresa d'Austria. Maria Teresa d'Austria è con lei che dà una svolta completa al palazzo, che per farvele imbrere nasce nel 1200 proprio come collegio, o meglio, come convento di questi frati umiliati, si chiamavano così. Producono praticamente la lana, la commercializzano, diventano ricchissimi. Arriva appunto Carlo Borromeo che invece è per il pauperismo della chiesa, ok? Quindi praticamente dicevo vi dato una regolata o se no, loro per risposta appunto attentano alla vita del cardinale, il quale appunto risponde sopprimendo appunto l'ordine, cioè questo ordine. Tutto il patrimonio passa ai gesuiti, i gesuiti fondano qui un collegio per la preparazione del clero, della classe appunto nobile e dell'alta borghesia. E da questo nucleo, diciamo proprio da questi gesuiti, meglio nascono, da questo collegio nasce poi il primo nucleo dell'osservatorio astronomico. Nel 1764 nasce l'osservatorio, viene chiamato Boscovich a fondare diciamo proprio questa specula osservativa, la progetta poi viene realizzata. La vediamo che è praticamente questa, questa qui che dà proprio sull'orto botanico. Poi in orto all'epoca poi napoleonica, questo è quello che vi dicevo appunto prima, in epoca napoleonica poi invece l'orto ha un altro tipo di funzione, prende un altro tipo di funzione più diciamo organizzata anche proprio come diciamo specie esposte direttamente, più che altro proprio come luogo di svago per la popolazione. Quindi perde un pochino appunto il suo luogo deputato, proprio anche la formazione appunto di persone, in particolare appunto dei farmacisti. Allora arriviamo appunto all'epoca nostra, arriviamo appunto nel 1335, nostra relativamente, nel senso che poi qui vi salto tutto un pezzo di storia, arriva all'università degli studi nel 1935. Poi successivamente, diciamo c'è stato un periodo di abbandono perché è stato passato appunto da un dipartimento all'altro, poi invece nel 2001 diciamo inauguriamo proprio tutto questo restauro che abbiamo fatto dell'orto riportandolo diciamo al secondo lo schema appunto settecentesco. Quindi con queste tre grandi aree, c'è una prima dedicata proprio alle aiuole, con le piante classificate secondo appunto il criterio di Linneo, una seconda parte dedicata più che altro ad Arboretto e poi questa parte delle serre che però le abbiamo prestate, come con i libri, quando si presta non diventano ma indietro, è successo esattamente così, nel senso che abbiamo prestato le serre all'accademia, questo negli anni Ottanta e non sono più tornato indietro. Quindi nelle serre ci sono ora le aule appunto dell'Accademia di Brera. In questo orto si svolgono quotidianamente delle attività sia didattiche che divulgative, quindi abbiamo, dopo averlo salvaguardato, dopo averlo restaurato, ci siamo buttati proprio sulla valorizzazione, come si valorizza appunto un orto o comunque qualsiasi istituzione, facendola conoscere. Quindi siamo rivolte prevalentemente alle scuole perché come sapete poi sono portatrici di altri pubblici, no? Perché ovviamente vogliamo così che entri il villepecunio, non solo, ma perché deve essere appunto conosciuto, deve essere restituito alla cittadinanza, deve essere fatto vivere alla cittadinanza e quindi le scuole in genere appunto portando le alunni poi portano i loro genitori a far conoscere appunto questo luogo, i loro fratelli, le loro sorelle, le zii, no? Insomma è proprio questo il circuito virtuoso, no? Di quando si ha a che fare appunto con delle scuole. Oltre che preparare i nuovi cittadini, cioè i cittadini diciamo così ancora in erba per rimanere in tema di orto, a vivere questo luogo della città, saperlo appunto anche apprezzare. E poi appunto al pubblico generico che lo frequenta attraverso visite guidate, lo conosce, lo frequenta sia attraverso delle visite libere che anche attraverso appunto delle visite guidate, magari su specifici temi appunto che organizziamo durante l'anno. Questo vedete è la pianta dell'orto, vi dicevo sono 5.000 metri quadri e qui vedete un pochino l'impianto, ecco la parte iniziale dedicata completamente alle ariuole e questa ad arboretto, mancano nel progetto che vi dicevo prima di Wittmann le serre perché ovviamente che poi sono praticamente queste perché ora sono appunto in uso in accademia. Questo delle storie effettivamente è un problema per noi. Ed eccoci qua. Allora, buongiorno. Ah, piacere. Dunque vi dicevamo, uno dei pubblici a cui tenevamo moltissimo poter aprire l'orto botanico, renderlo accessibile, renderlo vivibile, ma non perché ci piaceva fare qualcosa così di mai fatto per fare appunto i più bravi della situazione, ma proprio perché avevamo estremamente a cuore il fatto di rendere conosciuto e quindi, e soprattutto in autonomia, quindi al non vedente appunto l'orto botanico. Partendo sia dalla storia, perché vi dicevo quello che vi ho fatto prima era, non per dilungarmi, ma era un cappello introduttivo per dirvi che poi anche a livello proprio di trasformazione appunto dei messaggi, che poi ci addentreremo nella parte più tecnica, era per noi importante farli capire, far capire il non vedente, in che luogo si trovava, quanta storia c'era dentro questo luogo e perché questo spazio fosse uno spazio non a sé stante, ma inserito in una storia, in un contesto storico veramente unico, vi ripeto, appunto unico al mondo per come è costituito, cioè come sintesi di saperi umanistici, artistici, quindi Accademia di Belle Arti, umanistici biblioteche braidense, ma anche scientifici. Questo aspetto diciamo che poi, come vi dicevo prima, come probabilmente anche voi avete presente, vi è subito apparso essere il meno noto, no? Quindi che ci fosse appunto al Palazzo Brera un osservatorio astronomico, l'università, con tutto quello che vi ho fatto vedere prima è l'orto botanico di Brera e uno degli aspetti che sfugge. Invece noi volevamo realizzare, cioè come dire, rendere importante questa cosa anche appunto per il non vedente. Quindi questo è un progetto che studiavamo da tempo, era da tempo appunto che avevamo in mente di realizzare appunto questa cosa, sia qui che al Museo Astronomico che vi ho fatto vedere prima, però abbiamo desiderio che fosse fruibile proprio in piena autonomia, quindi dobbiamo capire, ma non perché ci dava fastidio seguire appunto il non vedente, perché secondo noi era bello che la persona riuscisse proprio a vivere l'orto muovendosi liberamente, un po' come appunto capita a noi, no? Cioè ci giriamo, ci piacerebbe andare a vedere di qui, spostarci di là, quindi che si sentisse veramente parte dell'orto ma anche libero di viverlo, secondo anche dei tempi diversi di quanto è possibile per esempio fare una visita guidata, no? Visita di guidata generalmente appunto le risorse, in questo caso la mia collega, io eccetera, possiamo essere dedicate per un'ora, un'ora e mezza, però poi appunto abbiamo anche altre cose a portare avanti anche perché poi l'attenzione comunque del pubblico viene meno, quindi che poteste rimanere per quanto tempo voleste, passare addirittura l'intera giornata in totale libertà. Ecco, grazie a chi questa cosa è stata possibile realizzarla, perché poi a parte la fase di progettazione che veramente abbiamo voluto maturare, chiaramente l'altro problema è quello del vile pecugno, insomma, perché ovviamente sono cose che costano e grazie proprio al Rotary Club di Milano Brera, quindi questa è un'informazione appunto che ci tenevo anche a sottolineare, perché se volete realizzare dei progetti nella città, sappiate che ci sono appunto queste associazioni, non so come, insomma, questi club, possono essere i Lions, possono essere appunto i Rotary, possono essere per esempio le Soroptimist, che sono un'altra, diciamo, sono la versione femminile del Rotary, in poche parole. C'è il FAI che sostiene, che possono proprio sostenere quando c'è un bel progetto, un progetto che tiene, che dà l'idea appunto che appunto poi la popolazione può fruirne, che soprattutto non si tratta appunto di uno spreco di soldi, anche se non sono in questo caso appunto pubblici però, che può tornare veramente alla cittadinanza, sappiate che quelli sono una fonte, quindi potete rivolgervi a loro, sono presenti tra l'altro in tutta Italia, e sia i Rotary che i Lions hanno, per esempio, proprio questa forte attenzione, adesso io conosco questi, quindi vi discorso questi, però ce ne saranno sicuramente altri, hanno questa grande attenzione verso le disabilità, quindi questo è sicuramente, passatemi il termine, una buona cassa, con un buon progetto però, con un buon progetto. Poi l'altra collaborazione, allora noi avevamo l'idea, abbiamo questa forte volontà di realizzare questa cosa, abbiamo trovato appunto chi menzionava questo progetto, ci serviva appunto una mano dopo, come dire, una mano di progettazione, per la progettazione, e in questo caso appunto ci è venuto in aiuto proprio il Dipartimento di Architettura, ma soprattutto poi avevamo bisogno delle persone che ne sapessero più di noi, perché insomma, quello era assolutamente fondamentale, che proprio le persone che avevano competenza sul percorso, quindi i non vedenti, si rendessero effettivamente, cioè ci dicessero che la cosa che abbiamo fatto andava bene oppure no. E quindi ecco appunto la collaborazione con l'istituto italiana, l'istituto appunto dei ciechi, in particolare con l'unione italiana dei ciechi e degli ipovidenti, in questo caso la sezione di Milano, ma tenete conto che in tutta Italia ci sono le varie sezioni, ok? Quindi se è vero che l'istituto dei ciechi c'è solo a Milano, sappiate appunto che le varie sezioni ci sono dappertutto, quindi potete rivolgervi a loro. Allora, ecco scusatemi se faccio queste incisi, ovviamente non è perché voglio fare, come dire, la professoressa della situazione, ma mi serve semplicemente proprio per trasmettervi delle informazioni che magari vi sono note, però magari possono anche sfuggire. Allora, che tecnologie abbiamo utilizzato? Vi dicevo, la nostra idea era quella di rendere il non vedente o l'ipovedente assolutamente autonomo, quindi che fosse accompagnato ci limitava un po' nel nostro progetto. Fortunatamente abbiamo, e poi soprattutto doveva essere rispettosa del luogo, perché appunto vi dicevo un orto storico, quindi, e poi appunto comunque abbiamo a che fare comunque con delle, no, con della vegetazione, quindi non volevamo fosse in qualche modo appunto, fosse invasiva e non rispettasse proprio il luogo. E che poi potesse dare comunque una, fosse un percorso che rendesse in qualche modo partecipe tutti i sensi, ok? Quindi non soltanto quello dell'udito, come vedremo poi, ma anche che potesse rasseporare tutto quello che è l'ortoporfire, quindi i profumi, le forme, ok? Le testure, come diremmo adesso, delle, in questo caso, delle cortecie piuttosto che degli arberi, scusate, piuttosto che delle foglie. E quindi abbiamo trovato fortunatamente questo nuovo sistema che, aspetta, vabbè, ve lo dico dopo, questo nuovo sistema che, vi dirò dopo, cosa meno non anticipiamo la sorpresa, che permette appunto tutte queste cose che dicevamo prima. Quindi arriva il nostro non vedente o ipovedente, vi dico già la soluzione finale e poi ci vediamo come sono arrivate, gli viene consegnato un bastone, come vedete lì, ed anche uno smartphone. Adesso poi ci siamo muniti anche di bluetooth, in modo tale che sia, la mano appunto sia anche libera. E con un sistema che fosse, oltre che non invasivo, anche dinamico, quindi che permettesse al non vedente di vedere tutto quello che un orto appunto accadeva, quindi che potesse essere modificato a seconda di come appunto l'orto si modificava. Infatti vedete, l'ultimo lobifragio ha battuto due firmiane, cioè una firmiana, scusate, che vedete lì, questo è proprio di settimana scorsa, me l'ho messa lì per dire, l'orto si modifica, fortunatamente. Vedete come siamo vicino le case? Abbiamo la fortuna che quando arriva un lobifragio cade sempre dalla parte interna, in modo tale le assicurazioni sono apposta. Però è sempre di notte, infatti non abbiamo mai avuto problemi di incidenti vari. Però l'orto in questo caso si modifica, quindi non era corretto dire alla persona che arrivava lì, vedete, che qui c'è una firmiana di informazioni. La mia collega, che poi nello specifico si occupa appunto dei messaggi, è corsa proprio a modificare questo messaggio, perché la firmiana, ahimè, non c'è più, è i fu. Quindi dare proprio l'idea dell'orto, anche proprio per onestà, esattamente com'è in quel momento in cui il non vedente viene a percorrerlo. Allora, innanzitutto, come si sviluppa questo percorso? Entriamo proprio nel vivo dello sviluppo del progetto. Quindi vi ho detto le intenzioni, vi ho detto che caratteristiche questo, diciamo, abbiamo in mente di realizzare, come dovesse essere trasmessa costantemente questa modifica appunto che l'orto comunque subisce essendo, come dire, un museo vivente, quindi non abbiamo degli elementi statici che sono lì e poi lì e soltanto in caso di mostre temporanee o di riallestimento riusciamo a modificare. Allora, innanzitutto, abbiamo visto che questo percorso si snoda in lungo tutto l'orto botanico, però c'erano delle caratteristiche che dobbiamo osservare. Allora, innanzitutto, vabbè, è un percorso d'anello in modo tale appunto che tutto l'orto, tutta l'estensione potesse essere goduta nelle sue particolari, nelle sue totalità, se nella parte appunto dell'orto più formale, quindi quella che vedete in sostanza qui, dov'è il cursore, qui, quindi nelle parti delle aiuole, se nell'altra parte, quella lasciata da arboreto, vi ricordate l'immagine che ho fatto vedere prima, quella parte più lasciata un po' più selvaggia che poi è questa, ok? E in questo luogo osservare in particolare, cioè poter fare quella che vi dicevo prima, essere un'esperienza proprio tattile, sensoriale, quindi di andare proprio anche a toccare le varie radici, scusi, le varie radici, vabbè, relativamente, però, le varie cortecce ed apprezzarne le differenze. Per esempio, questa è una cosa che ho scoperto anch'io, eh? Io dicevo, vabbè, albero, albero, più o meno, ok, sì, poi vedevi, no, che un albero è più liscio e l'altro, non so, è più ruvido, eccetera. Però entrare un pochino, un po' più del dettaglio, è stata proprio un'esperienza che si è maturata in noi, che appunto non eravamo esperti botanici, anche per noi ed è stato veramente un grande arricchimento, eh? Per noi che abbiamo sviluppato con i botanici appunto questo percorso. Però era anche appunto funzionale questo, diciamo, questo andamento appunto ad anello, perché evitava proprio ai due dombedenti che stavano utilizzando, diciamo, lo stesso strumento, ovviamente di scontrarsi, no? Perché questo non è una difficoltà. Diciamo che i due vincoli principali erano quelli, che la linea, diciamo, fosse, cioè la linea appunto, il percorso principale fosse il meno complicato possibile, quindi il più possibile poi rettilineo, e per questo motivo che il percorso si svolge principalmente per questo viale praticamente centrale che va a toccare poi tutto l'orto e poi ritorna, ok? Alla, diciamo, intorno praticamente al perimetro dell'orto stesso e si addentra in due o tre aree, che sono quelle, le aiuole dedicate in particolare alla collezione di ortensie e quella dei cereali. Questo perché? Perché logisticamente erano messe appunto in una situazione che permettevano di fare poi il ritorno, diciamo, al percorso principale, quindi per rendere meno difficoltoso possibile dal punto di vista dell'orientamento, appunto il non vedente stesso, o cieco, eh? Non è una parolaccia dire cieco, cioè l'Unione italiana ha ciechi, quindi va benissimo così. Questo è un altro elemento, perché nella fase di progettazione io ero tutta, insomma, un po' lì così, perché insomma il non vedente, poi intanto mi... allora io non vedente, poi appunto il cieco, che era lì, cioè va bene dire ciechi, eh? Non è una parolaccia, quindi proprio, insomma, liberiamoci un po' anche da questi imbarazzi, nasce proprio, diciamo, di base, c'è proprio rispetto, no? Per qualsiasi cosa, però non è appunto una parolaccia usare questo termine. Ah, attenzione anche l'altro aspetto, che gli elementi di servizio, per esempio il fatto che ci fossero un nuovo ingresso a Via Gabba, o proprio i servizi, quindi le toilette, dovevano essere altrettanto inserite, perché appunto quello è un servizio essenziale, quindi doveva essere appunto indicato. Ecco, quindi, nella progettazione, quindi questi vincoli, proprio della rettilinità, diciamo così, quindi di avere un percorso rettilineo il meno complicato possibile e che permettesse comunque di potersi orientare in maniera, diciamo, il più semplice possibile, in modo tale che l'attenzione fosse su quello, sui messaggi appunto che venivano trasmessi e non capire dove si era. Diciamo, è stato quindi calcolato proprio questo, progettato questo percorso e solo successivamente si sono costruiti i messaggi, sono scelte appunto le aree e le piante, diciamo, più significative per poterli appunto, da poter trasmettere nei messaggi. Abbiamo sviluppato poi due messaggi, ci siamo messi poi appunto chiaramente nella parte appunto del non vedente, ecco che in questo caso voglio dire anche quella del vedente, perché devi prevedere sempre due possibilità, quantomeno una breve e una lunga, ecco, in modo tale appunto da poter rendere sempre piacevole una visita, che questa non diventi pedante oppure veramente stressante sotto tanti punti di vista. E quindi abbiamo realizzato tutto questo affidandoci a questa tecnologia che si chiama Sesamonet. È una tecnologia praticamente sviluppata a livello europeo, nell'ambito appunto di una commissione europea e in Italia diciamo che uno spin-off di questa, diciamo, di questa esperienza appunto europea è la KMG che ci ha sviluppato proprio tutto il percorso a livello tecnologico. Allora, in queste immagini vedete, diciamo, l'essenziale. Praticamente avete, vedete un po' come funziona, cioè c'è una persona appunto non vedente che è dotata di un bastone il quale capta un messaggio, quindi che funge anche d'antenna, questo bastone, che capta dei messaggi che sono inseriti in questi microchip, vedete quella a farinoli bianco, è un microchip che poi vi faccio vedere dove sono contenuti fisicamente appunto i messaggi e vengono poi passati all'antenna e quindi allo smartphone, che poi permette proprio alla persona di ascoltare. Questa è la tecnologia appunto in dotazione e questi sono i microchip, sono alti più o meno così, 10 centimetri, vengono interrati, nel nostro caso ci sono 1500, più di 1500, perché poi abbiamo aggiunti altri, passi in tutto l'orto, lungo tutto il percorso, non sono assolutamente appunto invasivi, non sono radioattivi, tutte domande che ci siamo fatte, così mettiamo il microchip deserto, assolutamente. Ed ecco qui la parte appunto dei lavori in corso, qui vedete che sono quattro immagini sovrapposte, ho fatto un lavoro minuzioso di assemblamento, perché appunto si è presa ogni porzione e si è cercato appunto poi di sviluppare, come vi dicevo prima, il percorso appunto lungo tutto l'orto. Allora in particolare poi vedete che qui si dà, vedete questa parte, poi qui si dà la possibilità appunto di tornare indietro, perché diciamo dura, diciamo il percorso breve, quello di 20 minuti circa, o diversamente appunto prosegui, quindi qui entri nella parte, vedete quello che vi dicevo prima, che si entra nell'aiuole, non nella parte dell'oltense, poi vai avanti, il percorso è rettilineo e qui così invece entro nella parte dei cereali. Perché poi nella parte dei cereali in particolare? Perché volevamo anche che le persone potessero toccare i semi, ok? Potessero toccare come è fatto, non so, il grano, per dire, dal quale poi deriva la pasta, ok? Che ogni giorno. E anche qui è stata un'esperienza anche per noi, non pensate che, cioè poi ad entrarci proprio nelle varie tipologie di cereali, insomma noi che poi in particolare a Milano siamo tutti figli un po' dell'Este Lunga, cioè nel senso che le zucchine ci sono sempre e quindi ci sono sempre, punto. Quindi è tutto già perché ho confezionato, anche la stagionalità, no? Dei prodotti, delle verdure, perché poi abbiamo anche un orto didattico che non serve appunto alla cucina del giardiniere come qualcuno pensa, al giardiniere che si coltiva i pomodori o il basilico, no? Serve per far vedere appunto sia ai ragazzi ma anche appunto ai pubblico generico la stagionalità appunto dei prodotti, quindi le zucchine ci sono usanti in un periodo dell'anno, non ci sono sempre, ok? E quindi diventa proprio un discorso proprio di educazione alimentare fondamentale sempre, immaginiamoci poi anche adesso appunto in vista sempre di questo benedetto expo. Quindi il fatto di fare toccale loro queste cose diventava, ovviamente siamo sempre stati attenti che non ci fossero le ortiche, no? Attenzione, diventava proprio, anche qui, subentrava proprio la multisensionalità, sensorialità. Oppure in alcuni punti abbassati, tocca la foglia, senti appunto che ha questa sezione, oppure tocca la foglia della menta per esempio, no? Odorala, eccetera, eccetera. era appartenamente una, oppure la salvia, il rosmarino, cioè tutte queste cose che poi fanno parte della vita quotidiana del non vedente. Però mi domanderete voi, e quando i fiori non ci sono? E quando, non so, il cereale non è disponibile? Piuttosto che, non so, un odore appunto perché il fiore non è sbocciato, non è appunto anche qui disponibile, come si fa? Allora, innanzitutto bisogna preparare una versione B del messaggio, ovviamente. E poi abbiamo previsto delle scatolette in plastica, in genere in plexiglass, che si possono, quindi, che sono coperte in modo tale che non entri l'acqua, che sono sorrette da una, diciamo, da una base che abbiamo progettato noi su uno stelo, ovviamente, in cui le persone si dice apri la scatoletta che trovi di fronte a te, e poi abbiamo imbevuto dell'ovatta, dei tessuti, delle varie essenze, in modo tale che avvisiamo questo, appunto, è un profumo simile a quello prodotto dal, ok, ti deriva da un'essenza, si spiega appunto anche poi cos'è l'essenza. Oppure, nella parte dei cereali, sempre queste cassettine, con dentro del riso, oppure delle spighe che abbiamo fatto essiccare, e lì si avvisa, appunto, che si tratta, appunto, di spighe che sono fatte essiccare, dal quale deriva questa cosa, eccetera, eccetera. Poi, nella parte dei cereali, ci sono vari, ci sono tre scatolette, una di com'è la spiga, l'altra com'è, diciamo, quando il cereale è grezzo, e poi, appunto, quando è lavorato, in poche parole. Mi viene in mente adesso che dovremmo fare nella versione integrale, il riso integrale è il riso raffinato. Questo potrebbe essere un ulteriore dettaglio. Va bene, quindi qui vedete ancora i lavori in corso, quindi le modifiche, perché è stato un lavoro che, insomma, non è che ci mettiamo di tavolino, andiamo così, due o tre minuti, mi ha fatto delle cose. Ha comportato sia delle modifiche tecniche che delle modifiche a livello proprio di contenuti, ovviamente, e sperimentate sempre, appunto, poi con il non vedente. Poi, i messaggi. Allora, i messaggi avevano anche qui, contenuti a parte, che poi vi farò vedere, c'erano anche poi dei problemi tecnici. Allora, come dovevano essere posti questi messaggi? Allora, abbiamo dei microchip che sono interrati, vi ho detto che sono più di 1500, che danno semplicemente dei segnali tipo bip, 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 che dice, ok, sei sulla strada giusta, se non le senti più comincia a preoccuparti, ok, questa è un po' l'idea. Poi ci sono invece degli altri microchip che lanciano i messaggi. Però immaginatevi, pensate di essere in un orto, ok, voi ci vedete, quindi camminate, sapete com'è, tra, non so, una didascalia e l'altra, vi guardate intorno, vi distraete, tante belle cose. Lì così siete affidati, semplicemente, ad un suono e vi aspettate chiaramente che ci sia un messaggio dopo, no? Siete proprio in un altro sistema di riferimento. Quindi era necessario che questi messaggi, innanzitutto, fossero messe più o meno ad una distanza regolare, in modo tale che, no? Diciamo, fosse rassicurante anche questa cadenza. E soprattutto fossero in numero maggiore di quello che inizialmente abbiamo visto. Noi in prima abbiamo detto, vabbè, insomma, 20 messaggi, più o meno, no? Ci siamo basati sull'esperienza da vedente, ci siamo sbagliati sull'esperienza che fai con una vista guidata che non sai proprio spiegare. Qui così però dobbiamo metterci in un altro sistema di riferimento. E in questo caso, appunto, è stato essenziale che aveva, appunto, l'expertise, cioè appunto il non vedente, che certo, no, guardate che così non funziona, cioè dovete aggiungere ulteriori messaggi, dare ulteriori informazioni, cosa che appunto poi abbiamo fatto. L'altro problema, come vi dicevo, come vi ho già anticipato, era proprio quello di prevedere la stagionalità delle piante, o di tutto quello che l'orto, appunto, andava ad offrire. E per questo motivo abbiamo sostituito, diciamo così, la pianta con i contenitori che potessero contenere, non so, i frutti, per esempio, non so, le noci, contenuti appunto nel loro, nel loro, non so come si chiama, nel loro, sì, ma quello verde, diciamo, quello che li avvolge, insomma, quella parte, ecco, bravo, bravo, il mallolo, come si chiama? Mallo. Mallo, solo mallo, ok, quindi nel mallo, poi appunto nel guscio e poi nel contenuto appunto della noce stessa, piuttosto che nei semi, nell'olio essenziali, eccetera. Eccoci qua, allora entriamo un po' nel vivo dei messaggi, allora anche questo qui era il work in progress, quindi vedete anche qui tutti i dubbi che ci sono venuti qui espressi, quindi abbiamo steso dei messaggi, poi a seconda di chi appunto viveva appunto la cosa, quindi c'erano gli appunti, non so, del progettista, oppure quello del non vedente che diceva no, guardate qui, oppure quello di chi viveva l'orto, per esempio io, che appunto sono conservatore di entrambi le cose, nel senso che poi per la parte dell'orto mi occupo per la parte gestionale, fortunatamente, perché appunto non sapendo che cos'è il mallo, o meglio, va bene anche a voi che non entro nello specifico appunto dell'orto botanico, lì me ne occupo appunto a livello di relazioni istituzionali e di gestione, ok? Per quanto riguarda invece, quindi era necessario che chi viveva l'orto, cioè chi effettivamente, primo ne sa, perché ovviamente non andiamo a raccontare storie, quindi persone competenti, che sono presenti in orto e soprattutto che vivessero i problemi tutti i giorni dell'orto, compreso quelle che in determinate stagioni ti cadono le noci sulla testa, no? Quindi insomma è un problema da prevedere, perché già è un problema per noi, figuriamoci appunto per un non vedente. Quindi l'altro problema era quello di rendere, diciamo, il più possibile vicino all'esperienza appunto del non vedente, quello che per esempio andavano a toccare. Per esempio qui un dubbio che era venuto è che, diciamo, in questa cosa in particolare delle salvie labbiate, insomma, dice che il frutto è a sezione quadrangolare e toccandolo si possono distinguere le quattro costole ingrossate, quindi si deve dare l'idea di come era fatto praticamente questo fusto. Quindi qui il dubbio viene, ma, quindi appunto appunto la mia collega, si possono paragonare alle costole del gambo del sedano, che è qualcosa che è a casa, che fa parte della loro esperienza quotidiana, no? Che potesse dare l'idea. Queste un po' erano cose appunto da sviluppare, da risolvere con per esempio il non vedente. Oppure qui dice, vedete, qui c'è un messaggio, allora i messaggi verdi sono i contenuti, i messaggi punto rossi sono quelli dell'attenzione, scusate adesso mi avvicino perché sono cecata pure io, quindi devo andare a vedere meglio. E quindi dice, per esempio, attenzione, caduta frutti, colore nero che lasciano sulle mani se toccate. Allora qui, poi ci dicono, separerei due vertimenti, quello del colore vale solo se prendi i frutti in mano, no? Cioè, vedete anche queste piccole attenzioni che effettivamente non... Dall'altro cosa si può dire? D'agosto a novembre si senti a tonfare, cioè cadere appunto queste cose perché poi effettivamente non avvicinarti, no? Dubbi di questo genere che vi ho voluto proprio portare, diciamo, il vivo del nostro lavoro in quel momento. Per dire che nessuno nasce imparato e tutto appunto è un frutto di uno sviluppo, eh? E di un lavoro di collaborazione con le varie competenze. Ovviamente qui io non potevo dire niente perché se no, semplicemente fare da test. Come vi dicevo, è importante che chi vive la realtà, in questo caso l'orto, piuttosto che, non so, un sito archeologico, non so qual'altra cosa, parteci proprio attivamente, eh? Non può essere fatto soltanto dal direttore o soltanto dal conservatore o soltanto dal cieco o soltanto da... Deve essere un lavoro assolutamente di equip dove ognuno entra fondamentalmente proprio con la propria esperienza e con la propria vita vissuta nel quotidiano. Quindi molto bellamente anche il giardiniere, che magari pensiamo appunto sia lì semplicemente per strappare l'erbaccio e adesso per dirne una, è importante che ci sia perché dice la sua sulla quotidianità. Ecco, quindi qui poi, proprio come sono andati poi a svilupparsi poi i messaggi definitivi, quelli in giallo, vi dicevo, indicano le strutture in manufatti, come vi dicevo prima, non è un orto semplice in cui c'è soltanto appunto aiuola, piuttosto che arboreto, eccetera, ci sono proprio delle strutture vicino e le va raccontate anche alla storia. Allora, chiaramente però non è che puoi tenere lì qualcuno tre ore in piedi sentire la sala di Palazzo Abrea, però è importante trasmettere proprio questo contesto. Allora abbiamo cercato appunto di sintetizzarlo nell'introduzione, dando appunto sinteticamente come vedete qui l'avvertimento del luogo in cui si trovavano e poi appunto il messaggio di servizio con, puoi ora passeggiare nell'orto seguendo un percorso, potrai toccare le cortecce di alberi secolari, potrai staccare qualche fogliolina da piante aromatiche, potrai sentire l'acqua a scorrere dalle vasche, perché ci sono due vasche settecentesche che servivano appunto per la raccolta dell'acqua, per innaffiare ovviamente l'orto e dove adesso scorrere appunto dell'acqua, potrai sentire gli odori delle piante in fiore, potrai sederti all'ombra di grandi arbore e sentire i rumori lontani dalla città e il cinguettio degli uccelli. Abbiamo anche un picchio rosso, quindi è simpatico anche sentire questa cosa e potrai anche muoverti liberamente nell'orto facendo attenzione messaggi di orientamento che ti verranno comunicati. E poi da ancora spiegazioni, dici come è fatto l'orto, quindi c'è una piccola parte di uffici, una parte coltivata di aiuole coltivate che sono delimitati da blocchi che emergono dal fondo, anche qui circa una quindicina di centimetri e una parte invece appunto coltivata da alberi. E poi si danno appunto informazioni fondamentali sulle cose appunto presenti in orto. Qui gli altri messaggi, vi sto facendo vedere proprio i messaggi che sono contenuti, che loro sentono da questa voce che, ecco, quello secondo me dovrebbe essere ancora migliorato nella tecnologia perché ovviamente è una voce umana innanzitutto, però ancora un po' così, un po' da sintetizzatore in sostanza, un po' metallica, però insomma è comunque piacevole. Ecco, vedete un messaggio d'avvertimento? Attenzione, in primavera, scusa, scusate, in primavera o in estate a disposizione un tavolino con sedia all'ombra di una grande magnoglia, oppure più avanti c'è una panchina, se vuoi sederti, stare qui per un po', poi poi riprendere il percorso quando vuoi. Anche qui sulla sinistra trovi le toilette, poi attenzione frutti di noci che cadono, ok? Questo è proprio come le abbiamo poi tradotte, no? Anche qui, attenzione anche questa cosa perché poi l'orto è bello, tutto quel che vuoi, però insomma ha anche i suoi problemi, no? Quindi qui così un messaggio d'avvertimento che sentono appunto nella cosa. Attenzione perché è allergico al polline, quindi non toccare quelle cose. Oppure ancora, a sinistra potrai toccare i celiari all'inizio dell'estate, cioè un po' tutte queste cose qua. Poi un altro messaggio d'avvertimento, puoi sentire appunto i frutti del ginkgo biloba femmine, che peraltro è molto sgradevole, per inciso, come come frutto, esatto. E per esempio vedete qui, questo messaggio 17 è un messaggio che abbiamo dovuto modificare, perché la nostra firmiana platanifoglia defunta è ormai, cioè purtroppo appunto il nubifragio l'ha spazzata via, e quindi è un messaggio che abbiamo dovuto modificare, però proprio il problema dell'altro giorno quando stavamo venendo via fa ma cosa mettiamo lì? Perché poi c'è un buco, ma dobbiamo assicurare, come vi dicevo prima, il messaggio regolare, soprattutto che non ci fossero troppo gli spazi vuoti. Ecco, un'altra firmiana in fiore. In realtà poi noi abbiamo un problema, cioè adesso internosso, magari sono un orto botanico dove sono cresciuti alberi di alto fusto nel corso appunto dei secoli che per ovvi motivi non andiamo a tagliare, però allo stesso tempo creano dei problemi all'orto, perché l'ombra che producono tutti questi alberi non permette chiaramente il generarsi di altre specie, insomma non possiamo coltivare solo frutti di bosco o felci, quindi non andremo da... c'è un'altra giovane firmiana ma non andiamo a zapparci, a mettere, insomma come si dice appunto a puttarsi la zappa sui piedi. Quindi no, allora come abbiamo risolto questo problema lì, in quello spazio, abbiamo cercato che cosa c'è lì appunto da valorizzare, insomma del fatto che sia l'arboreto una zona appunto lasciata volutamente selvaggio, per dare l'idea appunto di come... insomma selvaggio adesso, adesso comunque più un'idea di un giardino appunto informale. Non volevamo dare, ovviamente ripetelo, perché sennò insomma che stress, non ha niente da dire a questi qua. Allora ci è venuto in mente che in quello spazio noi abbiamo una zona che dedichiamo al compostaggio, ok, quindi raccogliamo le fute e quindi abbiamo introdotto un messaggio che stiamo proprio sviluppando sulla creazione proprio del compost, quindi compost è il fatto appunto dell'accenno appunto dell'agricoltura biologica e l'importanza anche del riciclo delle cose stesse dell'orto. Quindi questo è proprio un work in progress, nel work in progress. Però sono cose che se volete sviluppare appunto un percorso di questo genere dovete tenere conto, e soprattutto se siete in un museo vivente, come può essere appunto un orto botanico o anche un parco. E questo diciamo che negli orti botanici è proprio il primo esperimento che è stato fatto, perché questo tipo di percorso era stato sviluppato in altre realtà, come per esempio dei lunghi laghi, per esempio, delle strutture nel centro città, eccetera, ma in un orto botanico e in un museo, diciamo che è proprio la prima volta che questa tecnologia viene applicata. Ecco, allora ancora, vedete lì il messaggio di avvertimento, quindi senti l'odore appunto dell'aglio.